Da oggi sono aperte il nuovo percorso delle sale reali qui al Museo Corrè a Venezia, in Piazza San Marco. È un grande orgoglio perché è un lavoro molto lungo, aggiungo troppo perché la burocrazia, le difficoltà eccetera ci hanno obbligato di un lungo percorso di strutturazione e di restauro. Però insomma, chi verrà a Venezia troverà aperte queste magnificenze dell'Ottocento dove vediamo proprio anche l'influsso, in questo caso francese. Voi sapete che Napoleone Bonaparte ha conquistato Venezia appositamente perché doveva chiudere un'esperienza democratica. La Serenissima era la prima repubblica libera d'Europa e voleva fortemente questo e qui voleva fare il suo palazzo reale con l'affaccio in Piazza San Marco. Venite a vedere questo posto perché è davvero affascinante. Ovviamente chiediamo a tutti di portare rispetto alla città e di avere la pazienza dal prossimo anno di prenotarsi per venire proprio perché la città sia godibile per tutti. Per chi viene a vederla e per chi ci vive e lavora. Grazie. 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 Grazie.